Strategie vaccinali per l'autunno alla luce del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale. Questo è il tema del convegno all'Aquila organizzato da Alba Auxilia con infettivologi ed esperti da tutta Italia. Sul tavolo gli strumenti di prevenzione contro il Covid-19 e l'influenza, l'HPV e l'herpes zoster. Amici del capoluogo, oggi siamo con il professor Roberto Ieraci per parlare della campagna vaccinazione Covid. Professore, questo Covid sembra appartenere un po' al passato, ma in realtà non è così. Questo può avere un impatto negativo sulla campagna vaccinazione? Certamente. Il concetto però essenziale è che comunque il Covid può essere dimenticato, ma non è scomparso. Più gruppi di popolazione, soprattutto anziani, soggetti con malattie croniche, con malattie sottostante, sono ad alto rischio di esiti gravi del Covid se infetti. Ecco perché noi dobbiamo dedicare tutte le nostre energie per riuscire a fare una campagna anti-Covid in maniera mirata, appropriata su questi gruppi. Dobbiamo far di tutto per riuscire a comunicare con loro, per certi aspetti a informarli, a convincerli, perché loro sono questi gruppi di cui abbiamo detto, sono quelli che sono ad alto rischio di esiti gravi del Covid. Quello che stiamo assistendo adesso è legato a un insieme di fattori, perché nelle ultime due o tre settimane c'è un aumento dei casi, e questo è innegabile. Però in parte è legato al declino dell'immunità da infezione e da vaccinazione, in parte a un certo impatto delle nuove varianti, perché ovviamente noi seguiamo la nascita di nuove varianti, anche se, devo dire, fino adesso tutti i dati che abbiamo indicano chiaramente che non sono legate, le emergenze di queste varianti non sono legate, diciamo, ai venti più gravi di esiti, o addirittura né diminuiscono l'efficacia del nuovo vaccino monovalente XBB1.5, che sarà quello utilizzato nella campagna vaccinale Covid-23-24. Quindi, ovviamente il Ministero ha già dettato le indicazioni chiare, abbastanza precise, over 60, soggetti con patologie croniche, ovviamente immunocompromessi, e anche la circolare di qualche giorno fa ha dato delle indicazioni più specifiche sulla tipologia di vaccini. Avremo a disposizione vaccini mRNA e possibilmente, aspettando l'autorizzazione dell'EMA, anche per il vaccino proteico adiuvato con una sostanza che amplifica la risposta immunitaria. Quindi, la tipologia di vaccini, l'importante è riuscire ad avere tutta la disponibilità degli allestimenti vaccinali. Ma perché? Per fare una campagna più appropriata e più mirata in rapporto all'età e allo stato di salute. Noi do questo, è molto importante da questo concetto. La Regione Lazio ha già dato indicazioni proprio ieri su una sorta di procedura finalizzata a riuscire a organizzarsi bene. Partiremo con gli operatori sanitari, con i residenti nell'RSA e poi piano piano in tutte le categorie target. La gestione sarà completamente nelle mani dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e dei servizi vaccinali delle ASTRE. Non si riapriranno gli AB, perché ovviamente abbiamo speso pure tanto. Però io penso che il medico di famiglia sia il professionista più appropriato in questo senso, perché lui conosce bene l'anamenesi clinica dei suoi pazienti. La maggioranza sono pazienti anziani con varie comorbidità, quindi tocca a lui una comunicazione personalizzata da questo punto di vista. Vedremo. Ovviamente la campagna dovrà essere monitorata per riuscire a vedere quali sono effettivamente le coperture. Però è una campagna in salita, perché la cultura della pandemia è finita e è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. L'SDC ad aprile aveva fatto un modello che se noi riusciamo ad avere delle coperture vaccinali molto elevate sicuramente ridurremo dal 36 al 44% i ricoveri per esiti importanti del Covid. Quindi dovremo tutti rimboccarci le maniche e far sì che finalmente riusciamo comunque a proteggere le persone più a rischio, anziani, immunocompromesse e soggetti con malattie sottostante, perché loro hanno un problema. Devo dire che anche in questa fase la gran parte della morbidità e della mortalità legata al Covid è sostenuta da questi gruppi di persone. Ecco perché è importante riuscire a fare questo vaccino, proteggerli di più per aumentare la protezione nei confronti degli esiti gravi della malattia. Devo ribadire un concetto, i vaccini hanno avuto un ruolo fondamentale, quindi bisogna comunque continuare a vaccinarsi e a proteggersi, fino a poi successivamente all'arrivo del santo grale dei vaccini Covid, che è un vaccino più durevole, a prova di varianti e soprattutto che limiti la trasmissione. Perché questo è stato, diciamo, il neo dei vaccini Covid, perché tante persone si sono vaccinate regolarmente, però poi si sono infettate. Allora è passato purtroppo il messaggio che il vaccino non funziona. Assolutamente no! I vaccini hanno avuto un ruolo fondamentale nel ridurre drammaticamente gli esiti gravi del Covid. Ecco, ha fatto cenno al ruolo di primo piano, che naturalmente dovranno avere i medici di famiglia nell'ambito della sensibilizzazione. Noi dal nostro piccolo contributo vorremmo darlo. Vogliamo lanciare un appello, soprattutto a quelle persone a cui accennava prima, in particolare i fragili, per, insomma, affidarsi a questa campagna vaccinale per non correre rischi inutili sostanzialmente. Sì, è importantissimo che queste, diciamo, le categorie a rischio, anziani, lo ripeto, immunocompromesse soggetti con malattie croniche sottostante, si vaccinino per proteggersi meglio. E soprattutto anche per evitare esiti gravi della malattia. Perché poi, non dobbiamo tenere conto, evitando gli esiti gravi diminuiscono i ricoveri, non si accede ai ricoveri, non si accede alla ventilazione artificiale, non si accede ai ricoveri in terapia intensiva. E si diminuisce il carico sul nostro sistema sanitario nazionale, che è già stato impegnatissimo, ancora adesso è continuamente impegnato. Quindi, vaccinarsi significa proteggersi, e questo è il concetto fondamentale. Ecco perché noi dobbiamo far sì che le persone appartenenti ai gruppi a rischio indicati dalla circolare ministeriale rapidamente si possono vaccinare attraverso o il medico di famiglia o attraverso i servizi di vaccinologia delle ASLE, ma vaccinarsi. Possibilmente, dato che questa campagna di vaccinazione Covid è accoppiata con la vaccinazione antinfluenzale, c'è la possibilità comunque di somministrare ambedue i vaccini, antinfluenzale e anticovid, e questo è sicuramente un vantaggio ai fini dell'accettazione da parte delle persone. Ovviamente interverranno quasi sicuramente le farmacie, le farmacie di prossimità. Allora, tutti i setting in cui c'è la possibilità di rendere la vaccinazione il più agevole, il più facile possibile, sicuramente è un vantaggio per il benessere, per una migliore qualità della vita dei nostri cittadini. Ecco, in questo quadro mutato che ha tracciato, dopo i fragili, verrà anche il turno, diciamo così, delle persone più giovani in salute o a quel punto non ci sarà più bisogno? Ma attualmente noi, come le CDC, non hanno dato questa indicazione, e l'OMS hanno individuato chiaramente quali sono i gruppi su cui intervenire. Vedremo nel proseguo della campagna, ma adesso tutti i nostri sforzi devono essere dedicati, mirati e appropriati nei confronti dei gruppi di persone che sono più a rischio di esiti gravi della malattia. E allora grazie al professor Roberto Ieraci. Professor Pasquale Stefanizzi, parliamo di copertura vaccinale, particolarmente importante per i fragili, le persone anziane. Cosa si può fare? Quali le strategie in campo da mettere per migliorare la campagna? Beh, allora, noi dobbiamo partire sicuramente da tre punti. Il primo punto è vedere come sono andate le precedenti campagne. Questo vale per la vaccinazione anti-covid, che sicuramente ci ha dato strumenti, possibilità e strategie nuove. Poi parte dall'analisi della percezione del rischio di malattia che c'è nella popolazione e successivamente dalle strategie comunicative che riusciamo ad individuare. Fatto centro, con questi tre elementi possiamo partire per capire cosa fare per migliorare le coperture. Noi abbiamo sicuramente una percezione del rischio per il covid che è diminuita parecchio, ma insieme al covid dobbiamo sfruttare la vaccinazione anti-covid anche per offrire a soggetti fragili, soggetti immunodepressi, altre vaccinazioni che sono altrettanto importanti e che in questi anni abbiamo un po' dimenticato. Pensiamo alla vaccinazione anti-premococco, la vaccinazione anti-influenzale, che erano delle vaccinazioni in parte già in difficoltà negli anni precedenti, ma che chiaramente negli ultimi due anni abbiamo un po' tralasciato. Quindi abbiamo bisogno di una comunicazione che vada tutta indirizzata nella stessa linea, abbiamo bisogno di una comunicazione che sia specifica, targettizzata nelle diverse fasce di popolazione e abbiamo bisogno sicuramente di una strategia dell'offerta che sia quanto più differenziata e più specifica possibile. Il nostro compito è raggiungere quelle persone che in questa fase hanno effettivamente bisogno della vaccinazione, tralasciando soprattutto in una prima fase anche per esigenze di tipo di risorse umane e di risorse anche economiche quella fascia di popolazione che ad oggi riesce a convivere meglio con l'infezione. Sia questa l'infezione covid, ma lo stesso discorso vale anche per l'infezione da virus influenzali e altri virus respiratori, considerando che ci apprestiamo una stagione autunnale-invernale che è quella dove generalmente le infezioni respiratorie prevalgono e il nostro obiettivo è ridurre la circolazione per proteggere i più fragili, ridurre le ospedalizzazioni. Avendo chiari questi strumenti, avendo chiari questi obiettivi, il nostro obiettivo deve essere finalizzato, la nostra strategia deve essere finalizzata a migliorare quello che abbiamo fatto negli anni precedenti. L'ultima stagione anti-influenzale ci ha dimostrato che il virus influenzale ancora circola, i dati epidemiologici sono comunque importanti nell'ultima stagione e da qui dobbiamo ripartire per questa nuova campagna. Ecco, la strategia per queste diverse campagne vaccinali può essere la medesima o viaggiano su percorsi paralleli? Noi dobbiamo fare in modo che la vaccinazione anti-covid possa essere l'occasione opportuna per fidelizzare, per targettizzare le nostre strategie e poter offrire a questi soggetti anche le altre vaccinazioni di cui hanno bisogno. Riferivamo prima alla vaccinazione antipremococcica oppure la vaccinazione anti-herpes zoster o comunque quelle altre vaccinazioni che sono specifiche per l'età adulta e che spesso invece dimentichiamo. È chiaro che il ruolo dei medici in medicina generale da questo punto di vista per la vaccinazione dell'adulto è fondamentale, ma per questi soggetti parliamo soprattutto dei soggetti più fragili è fondamentale anche il ruolo dello specialista. Se non c'è il consiglio dello specialista sia l'ematologo può essere il nefrologo o può essere l'endocrinologo per soggetti con diabete o altri soggetti con patologie croniche è chiaro che i risultati che pensiamo di poter raggiungere sarà difficile effettivamente che riusciamo ad ottenerli. Professoressa Leila Fabiani parliamo di campagne e di vaccinazioni ma qual è il ruolo che la scuola di specializzazione dell'Univac ha in questo contesto? Ma è direi determinante ovviamente la scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva dell'Università dell'Aquila ha ormai da tre anni 13-14 borse l'anno proprio perché tutti in Italia si sono resi conto della necessità di rafforzare due aspetti fondamentali che sono la prevenzione e la medicina territoriale e diciamo anche dal punto di vista dell'organizzazione perché la medicina territoriale naturalmente coinvolge i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ma queste due figure essenziali nel contatto delle persone devono comunque poter contare su una organizzazione che faciliti proprio le attività di prevenzione perché le attività diagnostiche o curative sono più scontate direi per loro quindi le persone vanno vaccinate una a una e vanno convinte più o meno una a una e quindi la necessità di avere un numero sufficiente di professionisti impegnati nella organizzazione della prevenzione nella strutturazione della prevenzione e poi nell'effettuazione nei centri vaccinali delle vaccinazioni è essenziale io ormai da dal 2021 ho buona parte dei medici in formazione specialistica sequestrati dalle asle dell'Aquila ovviamente di Teramo di Pescara di Rieti dallo Spallanzani perché svolgono lì la loro opera professionalizzante con diciamo l'incubatore universitario che riesce a formare dei professionisti di qualità un'altra cosa è necessario sottolineare in questi tempi in cui si ha grande necessità di professionisti c'è una specie di corsa ad accaparrarsi i nuovi specialisti beh tirarli fuori dall'incubatore troppo presto non va bene i ragazzi i ragazzi sono meno autonomi meno sicuri tendono a lavorare per imitazione anziché per scelta scientifica consapevole per autonoma consapevolezza e quindi sì abbiamo necessità di professionisti ma abbiamo necessità di professionisti bravi dategli il tempo e lo spazio mentale per conquistare una piena maturità tecnico scientifica e questo è ovvio per un chirurgo non si capisce perché non debba essere ovvio anche per un operatore della prevenzione per un igienista quindi per arrivare a un primo punto una prima conclusione direi che senza le scuole di specializzazione in igiene una fetta non trascurabile del successo della campagna di vaccinazione anti-covid del passato e delle campagne di vaccinazione più o meno in atto correntemente ecco questo successo non sarebbe stato possibile non l'intero una fetta ma una fetta importante ecco quindi possiamo dire sostanzialmente che questa emergenza ha cambiato il mondo della formazione rispetto a certe tematiche e anche il modello organizzativo sì e sì ha cambiato il mondo della formazione e ha cambiato il modello organizzativo è chiaro che i cambiamenti hanno comunque bisogno di riflessione di maturazione di arrivare a un equilibrio attualmente l'equilibrio non c'è tanto perché c'è la possibilità di reclutare sul campo specializzanti al secondo anno che insomma è veramente troppo presto veramente troppo presto ma non perché non siano bravi medici o perché non meritino di impegnarsi ma perché meritano invece di impegnarsi avendoci dietro le spalle un background scientifico tecnico e di guida che li rende più forti che li rende diciamo più autonomi rispetto a una routine che spesse volte soffre dei tutti i guai di cui soffre il nostro servizio sanitario cioè pressione temporale cioè quindi poco tempo per fare le cose poca poca flessibilità organizzativa la necessità di dare una risposta sempre e comunque quale che sia va bene questo non può essere diciamo ragionevolmente sottoscritto è un cambiamento che meriterebbe una maggiore riflessione che poi tutta la sanità debba trasformarsi in una comunità educante per i nuovi professionisti questo non lo dico non c'è bisogno che lo dica io non c'è bisogno che lo dica nessuno perché l'ha già detto Ippocrate quando ha detto che la formazione dei medici è tra pari è una formazione tra pari quindi ogni medico ha un po' il compito di educare il collega che gli sta vicino e se è del caso di essere educato da lui quindi è chiaro che la sanità è una comunità dinamica in crescita o almeno dovrebbe esserlo ma ovviamente ciascuno con le sue responsabilità e le responsabilità dell'università è di garantire la qualità del professionista a fine percorso Dottore Enrico Gianzante oggi all'Aquila ha un convegno sulle strategie vaccinali è entrato sostanzialmente l'autunno quali sono le vaccinazioni raccomandate e che ruolo può avere il medico di medicina generale in questo contesto Allora è arrivato l'autunno anche se il tempo è ancora bello e quindi dobbiamo fare tutta quella serie di vaccinazioni che prendono le malattie che sono tipiche della stagione quindi quelle che raccomandiamo prevalentemente in questo periodo sono sicuramente la vaccinazione anti-influenzale la vaccinazione anti-Sars-CoV-2 quindi anti-Covid la vaccinazione anti-pneococcica e anche quella contro l'herpes il ruolo del medico di medicina generale in questa fase è fondamentale perché deve assolutamente informare correttamente e quindi avere un'azione di stimolo per quelle che sono le persone interessate particolarmente gli ultra-sessantenni si parte per la campagna ormai si parla sempre di ultra-sessantacinquenni ma si va dagli ultra-sessantenni tutte le persone fragili le persone che possono vivere con persone fragili quindi è una vaccinazione che dovrebbe essere stesa il più possibile raggiungere target importanti per l'anti-influenzale parliamo del 75% poi voglio dire che è fondamentale non abbassare la guardia per quanto riguarda la vaccinazione anti-pneococci scusate anti-covid perché c'è stato il finalmente posso dire un periodo in cui ci siamo potuti rilassare in cui abbiamo superato quello che è lockdown abbiamo superato le ristrettezze ma adesso c'è la convinzione che potrebbe essere erronea anzi sicuramente erronea che la malattia non è più importante la malattia è importante soprattutto nelle persone di una certa età nelle persone fragili può creare grossi problemi quindi l'invito è quello di vaccinarsi di andare nei nostri centri ci può essere la cosomministrazione se non si va nei centri della alza si va del proprio medico di famiglia del proprio pediatra di famiglia quindi tutti devono essere spinti a vaccinarsi perché la vaccinazione oggi è una delle armi più importanti che abbiamo per prevenire le malattie infettive dottoressa franchi oggi un convegno per parlare delle nuove strategie vaccinali ma quali sono le principali novità rispetto al calendario di quest'anno grazie è uscito recentemente nel mese di agosto il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale è associato il calendario è un calendario che riguarda vaccinazione dell'infanzia ma anche per gli adulti e le novità sono rappresentate da vaccini innovativi per esempio quello contro l'herpes zoster ma anche vaccini contro lo premococco abbiamo recentemente proprio adesso insomma abbiamo ascoltato una relazione molto bella riguardo lo premococco e vaccini nuovi che abbiamo inserito anche nel nostro fabbisogno aziendale regionale ma abbiamo anche delle strategie nuove quindi sono state inserite ulteriori categorie di rischio e una novità importante è la vaccinazione nelle donne che hanno avuto lesioni cervicali correlate al papillomavirus quindi è un vaccino che finalmente riusciamo a offrire a donne ad alto rischio di recidiva che ha una valenza veramente importante come adiuvante proprio per la prevenzione delle recidive ecco accanto al vaccino del covid che naturalmente è ancora raccomandato per alcune categorie si è sviluppata tutta una trazione verso le altre vaccinazioni che citava poco fa quindi è tutta una strategia complessiva che mira sostanzialmente a proteggere i più fragili sì sicuramente sul covid purtroppo non ci aspettiamo una grande risposta quest'anno perché c'è una specie di fatica vaccinale quindi anche il numero di dosi booster che sono state proposte ha in qualche modo insomma allontanato un pochino da questa vaccinazione ma noi contiamo di insomma di aumentare di migliorare le coperture di aumentare di migliorare la comunicazione e di raggiungere persone fragili che necessitano di essere protette dottoressa Pasanisi oggi all'Aquila un convegno sulle strategie vaccinali un vaccino in particolare quello per l'HIV trova sempre più sensibilità da parte delle donne ecco di cosa si tratta e cosa c'è in campo Allora il papillomavirus è un patogeno che fa da padrone purtroppo sia nel sesso femminile ma stiamo avendo evidenze sempre più all'avanguardia che l'impatto sia anche molto importante per il sesso maschile ed è per questo che ormai anche questa vaccinazione è gratuita per gli undicenni anche maschi L'offerta vaccinale ormai dal 2008 è gratuita per tutte le bambine al compimento dell'undicesimo anno di vita e la novità è che viene riproposta anche al compimento del venticinquesimo anno quindi noi stiamo facendo delle chiamate attive quindi una recall sui soggetti che ancora non avevano avuto un ciclo vaccinale completo perché questa sia anche una possibilità vaccinale di immunizzazione per loro e inoltre abbiamo anche la possibilità di vaccinare per prevenire le recidive di papilloma soggetti che hanno avuto anche delle lesioni precancerose e che quindi possono accedere a questa nuova immunizzazione la cosa importante è che anche lo screening grazie alle campagne vaccinali precedentemente impostate ha avuto adesso i risultati le evidenze dei primi risultati i soggetti infatti che hanno avuto un'immunizzazione con due dosi prima dei 15 anni possono rimandare il primo appuntamento di screening che è fissato al 25esimo anno di vita al trentesimo quindi i vaccini funzionano abbiamo raccolto anche in Italia i primi risultati lo screening possiamo rinviarlo al trentesimo a chi ha un'immunizzazione adeguata precoce e il messaggio che dobbiamo mandare alla popolazione è chiaro i vaccini funzionano sulla malattia da HPV possiamo ottenere un risultato fantastico possiamo fare in modo che la malattia da HPV diventi rara in alcuni paesi dove la strategia è adottata in maniera importante da molti anni addirittura hanno avuto un risultato di una malattia quasi rara per il tumore della cervice uterina e anche per noi questo risultato è alle porte quindi vacciniamo prima possibile un altro messaggio importante non pensare c'è tempo per farla aspettiamo fine 18 anni perché quello è una opportunità che può essere mantenuta ma facciamolo prima possibile prima ci si vaccina dai 11 anni fino ai 15 è l'età migliore e meglio è perché la vaccinazione è più efficace abbiamo visto anche delle pubblicità in tv che invitavano alla vaccinazione però diciamo queste sigle ogni tanto lasciano il tempo che trovano spieghiamo un po' meglio di cosa si tratta di come agisce il virus e soprattutto cosa comporta a livello di salute allora il papillomavirus è un virus ubiquitario e partire dall'età dell'adolescenza non è un problema di se si acquisirà si avrà l'infezione è solo una questione di quando tutti noi andiamo incontro nella nostra vita a infezioni da papillomavirus normalmente guariscono spontaneamente ma ci sono delle situazioni che ancora non del tutto spiegate in cui la malattia va avanti in cui il virus che è capace di ingannare il sistema immunitario e non farsi riconoscere può rimanere nelle cellule e nell'arco dei mesi e degli anni dare delle alterazioni cellulari che possono quindi di lesioni precancerose poi dare effettivamente una malattia oncologica lo sappiamo bene per la cervice uterina ma sta venendo sempre più in evidenza come questo virus sia anche capace di farlo in altre sedi a livello anale abbiamo il tumore dell'ano che è uno dei principali che ha come principale determinante proprio l'infezione di HPV quindi anche su questo argomento si sta capendo come chi ha una storia di malattia di HPV a livello cervicale abbia necessità di un controllo anche a questo livello serrato e calendarizzato e del resto invece anche sui tumori testa-collo che qualche anno fa si diceva hanno una correlazione sta diventando sempre più evidente quindi è per questo che sia nel soggetto di sesso maschile che sesso femminile è importante arrivare a vaccinare prima possibile è considerata di un virus a trasmissione esclusivamente sessuale o c'è altri certamente quindi come dicevo prima è abiquitario certamente i rapporti sessuali sono uno dei principali fattori per l'aumento dell'infezione tant'è che appunto è l'adolescenza il periodo in cui si comincia a avere un'incidenza più alta dell'infezione ma non solo e quindi sicuramente iniziare dall'adolescenza è il punto più certo abbiamo avuto anche comunque con il cambiamento delle abitudini sessuali un aumento dell'incidenza anche nelle fasce di popolazione più alta e quindi è per questo che è possibile che anche in futuro il target della vaccinazione veda interessare anche un'età sempre più avanzata e sapendo anche comunque che ottenere un ciclo di immunizzazione presto dà un'immunizzazione anche molto duratura quindi questo ci rassicura in questo senso non è per tutti i vaccini possibile invece il vaccino ha a disposizione contro il 9 valente e adesso sta dando negli anni una continuità nell'immunizzazione ottimale e questo ci rassicura molto grazie